La Commissione europea ha annunciato aiuti umanitari del valore di 3,5 milioni di euro per aiutare i rifugiati in difficoltà in Bosnia-Herzegovina, una catastrofe umanitaria al corso nel cantone di una sana. 1.700 persone devono affrontare l'inverno senza un rifugio adeguato. Lunedì i funzionari europei hanno criticato duramente la Bosnia per non aver agito rapidamente. Le autorità bosniache dovrebbero comportarsi come farebbe un paese che aspira ad entrare nell'Unione europea. La vita delle persone non può essere sacrificata per le lotte di potere politico interno. Il denaro appena stanziato si aggiunge agli oltre 85 milioni di euro di aiuti umanitari che l'Unione europea ha fornito alla Bosnia dal 2018 per far fronte alla crisi migratoria, ma gli esperti suggeriscono che la critica di Bruxelles alla Bosnia sia piuttosto egoista. La critica dell'Unione europea è giustificata, ma non è molto credibile. Molti stati membri dell'Unione europea stanno facendo lo stesso nelle isole greche, al confine ungherese-serbo o al confine tra Croazia e Bosnia, e cioè trattano mali migranti e fanno politica sulla pelle dei rifugiati. L'Unione europea sarebbe più credibile se gli stati membri non trattassero i migranti come lo fa la Bosnia-Herzegovina. La situazione nei campi improvvisati va peggiorando da settimane. I migranti a Camp Lipa hanno rifiutato le razioni di cibo e hanno chiesto condizioni più umane. La scorsa settimana il campo è stato bruciato e da allora i migranti sono rimasti in strutture senza tetto, senza riscaldamento né pasti adeguati. La Bosnia sta registrando un afflusso massiccio di migranti che cercano di raggiungere l'Europa occidentale attraverso la Croazia.